Buongiorno a tutti ragazzi, sono Axel Preda, questo è il divano di casa mia, lui è Orso e voi siete su... Oggi torniamo con una rubrica che è da un po' di tempo che non prendo in considerazione perché mi sono passato, sono passato insomma alla Playstation, ho fatto più cose per la Playstation come avete notato nel mio canale e torniamo su questa cosa per PC, ovvero i giochi Flash che fanno assolutamente spaccare. da ridere. Bene ragazzi, scusate, iniziamo. Bene ragazzi, iniziamo con Trollface Quest, credo che ne faremo un po' oggi di questi. Start game. Nooo, cos'è, su, ti piacciono i giochi? Io voglio giocare con te. Spegni la tv per passare al prossimo livello, ma non posso schicciare il bottone, sì che posso schicciare. Cazzo ridi? Che cazzo? Aspetta, allora, mmmm, non c'è la terra qua. Vabbè, tengo qua qua io. Ah, pillola blu o pillola rossa? No. 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 Ancora. Che cazzo significa? Vabbè, devo andare in bagno. Uomini! Pensavo che era la scelta migliore, ma no. A chiave! Che senso ha? Vabbè, eh... qua sotto no, questo non è niente. La pianta non puoi. Come cazzo? Sì, procede. Questo gioco di merda. Ok, non vedo qualcosa. Facciamo schermo intero, va. Aaaaaa, affanculo! Dovevo aprirlo tutto. Andiamo avanti. Allora, cosa devo fare? Devo collegare i tubi, giusto? No, devo così. Tu, così. Ma è troppo facile, ci sarà qualcosa di... Non è il scopo. Ok, ecco. Questo sta bruciando, si è... No. Sì? Abbiamo risolto i problemi! No, mi devono salvare, ok. Quindi... Fiamme. La pioggia! Eccola! No, non è questo. Ehm... Voi alzate... No, sempre no. Muoio perennemente. E allora, cosa potrebbe essere? No, no. Non ci credo mai. Hola, Toro! Ehm... Come sta? Bello! Ma... Ti stai divertendo? Non posso fare niente! Questo posso schicciare niente. Questo neanche... Che cazzo devo fare io? Ehm... Ehm... Io ci sono sul punto di rinunciarci. Perché non vedo assolutamente nessuna freccina. Schicciare il mouse? Schicciare qualcosa? No. Cambiamo gioco. Trollfail Quest 2! Iniziamo bene! Riti! Ehm... Forse è il primo. Allora... Siamo davanti a un cosmo con pochi capelli. Io che sono praticamente uno scarabocchio. E devo aprire uno di queste. Sono i personaggi di... Questo è di Angry Birds. Allora... Schiacciare con lui! Ehm... Quelli di Angry Birds! Bene! Quindi... Tutto ciò... Cioè... Cosa dovrei fare? Devo schiacciare in sequenza? Devo fare una canzone! Così non funziona! Sì! Ho fatto qualcosa che non so... Cosa! Ma l'ho fatto! Next level! Allora... Possiamo! 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 Possiamo perché? Lui c'è molto interessato al discorso, eh! Procediamo! No! E' che procedere non è... Non è... Non è ideale! Ehm... Instacchiamo assale in testa! No! Cazzo, è diventato Obama! Ah! Adesso posso entrare! Ahahah! Scherzi! Che cazzo! Andiamo avanti, va! Ehm... Allora! Oh la madonna! Ancora! Sorry! E schiaccio! Schiaccio l'occhio! E' la gallina di prima! Next level! Ah! Sempre sta gallina c'ho dietro! Allora... Praticamente non c'è un cazzo da fare! Trammi che... Che stronza! No! Allora... Ho capito! Ma niente! Se io è... Si mette davanti la nuvola! C'entrerà qualcosa! Mettiamo la zeta! Da! Ehm... Boh! Proviamo? Dai a un! Ah! Censuriamo! E' censurato! Perfetto! Allora c'è la gallina che deve far sia l'occhio! Quindi immagino che dobbiamo aprire l'acqua! Caldo! Fredda! Fredda! Ah! Era l'altra! Era l'altra! Fredda! Ehm... Attento! Ehm... Come... Come si regola sta roba? Io non lo so! Io non lo so cosa fare! C'entra qualcosa il pennuto! Ma... Non me lo fa! Cazzo schiacciato! Dovrei... Adesso è tutto un click! Dovrei... In teoria... Tipo... Non posso muovermi? I tasti non vanno, vero? No! Allora... Dovrei, 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 dovrei... Farò un cazzo... Possiamo rinunciarci? Prossimo gioco! Trollflick Quest! Videogames! Bene! Allora... Io sono lui, devo... Posso muovere? Stai cagando? Entro qua dentro? Cos'è sta roba? Rifallo! Devo andare al cesso! Ho capito! Giusto? Quindi io in teoria... Devo... C'è... C'è puzza? C'è tanta puzza? Ah! Eccolo qua! E poi andiamo al cesso! E vai! Allora... Attenzione! Perché se faccio così? Cazzo è quella roba lì? La zecca! Comincia! Ok, devo tipo... Questo cos'è? Un fucile? Devo tipo lanciarlo... Ecco, soltanto fare quello però... Che cazzo di ciò che so... No, ho attivato sta roba qua! Allora, schiaccia qua! Non posso più schiacciare niente qua sotto, giusto? Ecco! Ah, che è un portale! Ah, il portale... Ah! Ah! Tipo lì, come si chiama... Portal! Ok! Ora voglio vederti, piccolo... Adesso non posso schiacciare più niente qua! Cazzo è successo? Poi devi uscire di qua... In qualche modo, eh! Spegni! E esci di là! Ah, non esci più di là! Vabbè! Eeeee... No! Cosa devo fare? No! E' pieno di mosche! Qual è lo scopo? Ah, forse devo farlo andare... Che c'è una faccia qua adesso? No, c'è qualcosa che devo... Ecco, qua! Qua, 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 qua! No! Questo! Questo! Cioè, ma non si capisce che cosa bisogna fare qua! Eee... Fanculo il prossimo gioco! Trollface Quest 4! Olympics Winter! O Winter Olympics! Adesso ridi! Anzi? No! Perché? Riaccendi! Riaccendi tutto! Bravo! Vi è che è il metodo migliore! Eee... Spara! Hai fallito, sei una merda! Spara ancora! Sei ancora una merda! Eee... Spara di nuovo! Sei sempre una merda! C'è qual quadra che non cosa! C'è qual quadra che... Non cosa! Fallino? No! 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 Per... No! No! Niente! L'idea è che... La tua mira è una merda! Forse è meglio se ci rinunci! Perché... Devo dire che... Non c'è... Una beata sega da fare! Ragazzi! Ci ho provato! Ho fallito miseramente! Prossimo gioco! Troll face quest troll tube! In teoria in questo dovrei essere bravo! Non come negli ultimi che... È un po' schifo! Beh! Andiamo! Ok! Salta play! Sono io! No! 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 Lazzorei! Ho fatto paura! Ripolliamoci! Ehm... No! Non lo so! Cosa devo fare? Cosa? Cosa? Tu se la faccia troppo ad aprirla! È inutile che... Poi... Dimmi che posso fare qualcos'altro! Allora... Cerchiamo di capirci un attimo qualcosa! No! Ed è zio! Ma non è che per caso potresti semplicemente non apparire? Sì! Dovevo schiacciare lo schermo dopo! Sì! Ci vuole intelletto! E... Click me! Perché? Appunto... Appunto! Anche io seguo i consigli che mi dà una cosa che ha scritto qualcuno! Direi proprio di no! Ehm... Non cliccarmi? Non ti clicco? Aspettiamo! Ehm... Ehm... Proviamo a cliccare... Mi... Bene ragazzi visto che non riesco a capire c'è scritto cliccami lo clicco esplode io direi che per questo video è tutto vi rimando al prossimo appuntamento al prossimo video mi raccomando un bel mi piace condividete commentate e un saluto a tutti i gamer